Cavaliere, l'asso sta sempre qua, mica è volato l'asso, lo vede l'asso, lo vede l'asso, lo vede l'asso, mica ci stanno trucchi fra colleghi, la cartina sta qua, nante la cartina sta qua, nante la cartina sta là, l'asso andò sta. Ah, è qui. Ha perso. Ah, ecco le due mila lire. Succor morale cavaliere, questa è la porta buona per lei, questo è sempre l'asso, lo vede che l'asso, ti pare fra amici ci rubiamo i soldi, questo è sempre l'asso cavaliere, lo vede. Lo vede, lo vede. La cartina vince, la cartina perde, la cartina vince, l'asso andò sta. Questa volta è qui. E ha perso un'altra volta, ne facciamo un'altra cavaliera? Abbia fede, la volta che andò in nato non sbaglia più. Eh sì, è questione di fortuna. Ma quanto perde? Eh, mi pare i diecimila lire. Bene, allora facciamo una partita da diecimila lire e così può andare pari, ti pare fra due colleghi ci rubiamo i soldi. Eh, va bene. Questo è sempre l'asso, lo vede? La cartina vince, la cartina perde, l'asso sta sempre in mezzo. Dove sta? Eccolo! Bravo ragionier Pasquarelli, hai indovinato. Ha proprio indovinato. Giulio Cesare, sempre con le carte tue. Allora mi deve diecimila e siamo pari, così si racconta anche lei. Certo che so contento, so contento. Continuiamo? No, no, questo è un gioco proibito dalla legge, è un gioco d'azzardo e qui nessuno s'azzarda a fasseli cazzi sua.